Buongiorno a tutti da Gabriele benvenuto e anche da musicista 97 qui dietro di me Ragazzi e ci tocca eh? Francescona suona ti prego Stiamo per assistere al plenum di tutte e sette le campane a slancio Ed è plenum proprio eh Perché adesso ho notato che quando hanno fatto la suona alle 10 e mezzo Sono partite tutte quante e sono partite bene La terza per esempio prima prendeva quota molto lentamente Adesso invece va subito in quota E quarta e quinta soprattutto non vanno più alte ma vanno a quota normale Quindi di sicuro suonano tutte e sette Hanno fatto una gran manutenzione Speriamo ragazzi Speriamo In una gran bella suonata Con cui riprendiamo un attimo la facciata E ci prepariamo col piedistallo per fare la ripresa Buona visione Eccola 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.